Incontro ufficiale stamattina a tre mestieri etneo tra il sindaco Santinando e i 27 uomini tra agenti, ispettori, comandanti e amministrativi della polizia locale. Era necessario fare il punto della situazione dopo l'inizio delle scuole che ha visto impegnato il corpo a tempo pieno e la festa della Madonna delle Grazie a piano. Questo è il primo incontro, però un incontro che oltre a rappresentare un momento di benvenuto, un momento istituzionale, un momento anche di enorme cordialità e armonia con il corpo, peraltro la polizia municipale, la polizia locale è uno dei corpi più sensibili, uno dei settori più sensibili all'interno di un'amministrazione perché svolge innumerevoli attività. Un incontro che è stato però anche produttivo perché abbiamo già potuto tracciare un minimo di consultivo sull'attività fatta dal 17 giugno a oggi e abbiamo potuto programmare quelli che saranno gli interventi aggiuntivi, già un'attività abbastanza corposa della polizia locale. Abbiamo fatto anche un'analisi di quello che è stato ad oggi l'impegno con le scuole, un impegno che ci ha visto impegnati in 16 unità, 18 unità al giorno nei vari presidi, 12 presidi. è brillantemente superato, considerato che non ci sono stati incidenti, non ci sono stati motivi di enorme ingolfamento del traffico, la viabilità si è svolta regolarmente con apprezzamento sia da parte delle presi, con i quali abbiamo un ottimissimo rapporto, ma anche della popolazione scolastica, genitori soprattutto compresi. Questo, ripeto, è il primo di una lunga serie di incontri perché noi riteniamo che l'amministrazione debba sempre interagire con il personale e debba avere momenti di relazione per confrontare il fatto, quello che è andato bene e quelli che sono i correttivi da applicare al fine di ottenere il miglioramento del servizio. La grande novità dei prossimi giorni sarà l'apertura del distaccamento dei vigili urbani a Canalicchio. Per questo il comandante Giovanni Scardaci ha chiesto al primo cittadino un potenziamento dei mezzi. Nel sindaco abbiamo fatto una prima disanima della situazione, insomma, dei mezzi e dei servizi a cui siamo chiamati quotidianamente. Naturalmente con l'inizio delle scuole c'è sempre un attimo più di confusione per le strade, ma è una questione normale, diciamo così, che senz'altro andrà normalizzandosi nei prossimi giorni. Per il resto, insomma, la presenza del personale di Polizia Municipale davanti alle scuole è sempre e costantemente garantito. Abbiamo discusso con il sindaco sulla possibilità e necessità di incrementare i servizi a Canalicchio, perché è necessario chiaramente una maggiore presenza e più costante presenza sul territorio anche in quella zona, perché pur essendo una frazione, ma insomma è una frazione con 11.000 residenti e quindi richiede un impegno assolutamente costante che faremo in modo di incrementare in tutti i modi. Poi ovviamente abbiamo discusso di quello che è lo stato del corpo, come disponibilità di personale, come disponibilità di mezzi e anche qua il signor Sindaco ha dimostrato e ha la sua assoluta disponibilità nel cercare di migliorare la dotazione, quindi a breve sicuramente avremo la possibilità di avere qualche mezzo che ci aiuterà e faciliterà sicuramente i servizi, soprattutto appunto nella zona di Canalicchio, che ricordo è una isola amministrativa, quindi chiaramente non abbiamo continuità territoriale, gli spostamenti sono onerosi e ovviamente logisticamente problematici.